ciao a tutti forse molti di voi hanno visto questo attrezzo ma non ne conoscono la funzione è un piccolo pezzettino di plastica con un filo metallico che forma un'asola serve proprio per infilare l'ago chi ha difficoltà di vista può utilizzare questo strumento anche senza occhiali ora vi farò vedere come funziona molto semplice e molto economico si prende un semplice ago normalissimo da cucito un pezzo di filo qualsiasi allora devo innanzitutto infilare questo pezzettino metallico questo filo metallico a forma d'asola all'interno della cruna del lago è molto semplice perché essendo il filo metallico rigido entra facilmente anche solo al tatto una volta infilato lago all'interno di quest'asola la cruna del lago all'interno dell'asola devo inserire il mio filo un pezzo di filo qualsiasi nella parte davanti non so se si riesce a vedere bene vediamo se trova una posizione migliore per farlo vedere ecco forse così riuscite a vedere una volta infilato devo mantenere le due cime di lunghezza diversa una un po più lunga una un po più corta a questo punto tirerò il mio ago in modo da farlo uscire dall'asola ora vedrete come è molto semplice ecco qui si vedono bene le due cime una un po più lunga una un po più corta a questo punto io tiro il mio ago verso l'esterno lo estraggo dal filo metallico una volta estratto dal filo metallico tiro lago in questo modo e una parte del filo resta dentro e poi estraggo tutto non so se si è capito bene è più facile farlo che spiegarlo e così ho il mio filo inserito nella cruna del lago senza alcun problema con un piccolo oggetto ora lo rivediamo quello che non bisogna fare è inserire prima il filo non si otterrebbe nulla invece inserendo l'ago come prima cosa lago ecco qua qua forse si vede meglio inserisco lago fino al fondo al filo metallico in modo da lasciare lo spazio per inserire il mio filo di cotone inserisco il filo di cotone inserisco il filo di cotone tengo una cima più lunga dell'altra ecco qui si vede meglio e a questo punto posso estrarre lago tiro fino alla fine di una delle due cime ecco fatto questo punto estrarre tutto il filo e avrò il mio ago infilato perfettamente senza nessun problema senza nessuna fatica questo è un oggetto che si trova facilmente nelle mercerie a poco prezzo spero di esservi stata utile io vi saluto e vi aspetto per i prossimi video non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di visitare il nostro sito elettronica didattica.com ciao a tutti a presto